Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme le pettine di lonza con le verdure. Cominciamo a tagliare la lonza a pettine. Abbiamo un chilo di lonza di carne di maiale. Taliamo le pettine di carne a questo spessore qua. Usiamo 4 scalone. Taliamo un scalone a pezzi piccoli. Tagliamo due gambe di setano grandi. Tagliamo due gambe di setano grandi. 考iamo una macchina. Mettiamo il sedano in un piattino. Tagliamo 2 carote a pezzi grandi. Mettiamo l'olio nella padella, tipo così. Abbiamo scaldato l'olio extravergine di oliva e adesso mettiamo scalogno a soffriggere. E aggiungiamo anche il sedano. E adesso mettiamo le carote. Mescoliamo un pochino. Adesso mettiamo la carne a cuocere. Aggiungiamo la carne. Aggiungiamo la carne a cuocere. Così. Mettiamo un cucchiaio di capperi. Mettiamo una spolverata di pepe nero macinato. Mettiamo coperchio sopra e lo lasciamo cuocere per 20 minuti. Mettiamo la carne a cuocere. Aggiungiamo 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 la carne a cuocere. Buonissima. Saporita. E c'è un bel sughetto. Molto, molto buona. Aggiungiamo la carne a cuocere. Molto. E c'è un bel suù%. E c'è un bel suù. E c'è un bel suù. Grazie.